Exportways Italia è una nuova piattaforma online di informazione promossa dalle camere di commercio italiane in Africa del Sud, in Asia, dal Medio all'Estremo Oriente e in Australia. Si rivolge a tutte le piccole e medie aziende italiane e a tutti gli imprenditori che hanno voglia di scoprire nuovi mercati in queste parti del mondo. È uno strumento facile, semplice e gratuito, una pagina Facebook con curiosità, notizie, approfondimenti. Quindi, qualsiasi domanda voi abbiate, noi siamo qui, pronti a rispondervi, per scoprire insieme qual è il mercato più adatto al vostro prodotto. Io sono Davide, da Tokyo, e con me ci sono anche Jacopo, da Seoul. E' triste, bye! Salamat ad Kita Kids, da Manila, nelle Filippine. Ilaria, da Hong Kong. Pamina, da Johannesburg. Michele, da Bangkok, Thailandia. Ilaria, da Aron. Rachele, da Sydney, Australia. Simone, da Maputo, Mozambico. Dal Catà, sono Palma Libotte, dirigo la Camera di Commercio. Siamo tutti pronti con il progetto Exportways Italia ad andare live con la nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo sabato 23 maggio per i primi video di presentazioni. Nel frattempo mettete like e seguite la nostra pagina Exportways Italia. Grazie! Ciao! Ciao! Grazie.